Buonasera a tutti, da Mario Giorgiano 24, adesso vedremo un meme, fatto dal nostro ministro dell'interno, Matteo Salvini. Ecco, per esempio, questo è un bel meme, questo è un bel meme, questo è un bel meme. E lo vedremo al meme dell'amico dell'AMG, dell'amico di Soros, che parla dal suo grande attico di New York, Roberto Salvini. Oggi, 23 maggio 2019, il ministro della malavita, Matteo Salvini, ha bloccato l'ennesima nave proveniente dall'Africa. Una nave che conteneva persone, bambini, donne, ragazzi. E' arrivato la rotina, a non scusate, su Roberto Saviano, su Roberto Saviano.